ciao ragazzi eccoci qua di nuovo sul pensieri canale dell'architetto per un video insolito molto interessante ho appena ricevuto un'email dal ministero dove ci dice che è possibile richiedere scaricare la certificazione verde covid19 e all'interno di questi email trovate un link che porta a questa pagina dove vedete proprio la certificazione verde covid19 si può andare a inserire se l'utente è provvisto di tessera sanitaria le cifre dell'indicazione della tessera data di scadenza di tutti questi altri dati in più vi consegnano insieme all'email un codice identificativo da inserire in questi campi sottostanti e poi di qua si fa la certificazione ma la parte più interessante qual è che nel mio caso posso andare a ritirare perché avendo fatto il covid allora in questo momento potrei tranquillamente scaricarmi la certificazione verde covid19 e partire per le vacanze oppure per quelli che devono ancora fare il vaccino oppure non hanno fatto il covid di recente c'è la necessità la possibilità di andare ad abilitare sull'app io quell'app che utilizziamo anche per andare a verificare le estrazioni delle lotterie degli scontrini e quant'altro i quali trovate diversi video sulla mia playlist e guadagnare in rete e di qua abilitando proprio un determinato settore si può ricevere poi più avanti senza fare richiesta direttamente la certificazione verde covid19 vi faccio vedere come si fa allora innanzitutto dovete aggiornare l'app perché se non aggiornate l'app non riuscite a vedere questa nuova funzionalità vedete che in basso vi viene a dire oltre che devo pagare il bollo della moto della macchina vi dice ovviamente che l'invio dei certificati verdi in corso potrebbe richiedere diversi giorni basta andare su servizi andare su servizi trovate per l'appunto certificazione verde covid19 si clicca qua sopra e dovete controllare che il servizio attivo venga applicato l'operativo flag negativi che push anche flegato facendo in questo modo voi riceverete poi gli aggiornamenti appena sarà emesso la certificazione verde covid19 andavanti nella pagina sottostante trovate alcune istruzioni e anche la possibilità di accedere tramite dei siti internet ragazzi questo è tutto spero di esservi stati utili e spero che abbiate anche la vostra certificazione verde covid19 nel più breve tempo possibile in modo che possiamo riprendere la nostra vita di tutti i giorni grazie di avermi seguito per questo video flash ma vi prometto che ritornerò a realizzare i miei video di domotica e i relativi tutorial condividete questo video perché è molto importante vi aspetto mercoledì alle 9 per il nuovo video sulla domotica in 3d ciao a tutti